Difensori dei nazisti, meglio di no, ci voleva l'uscita del candidato Maximilian Krah, secondo cui non tutte le SS erano criminali per sancire l'espulsione dell'AfD, Alternative for Deutschland, dal gruppo Identità e Democrazia, quello di Salvini e di Marine Le Pen, al Parlamento europeo. C'è movimento in vista del voto e la prospettiva di una maggioranza di centrodestra potrebbe segnare l'emarginazione dei gruppi più estremisti o far dimenticare divisioni e vecchie ruggini. Lo si è visto al raduno di Vox, l'estrema destra spagnola domenica scorsa, dove erano invitati sia il gruppo dei conservatori e riformisti europei che quello di Identità e Democrazia. Non tutti sono a favore dell'invio di armi all'Ucraina, ma sono uniti nella battaglia in nome della patria, delle frontiere e della difesa di un'identità che avvertono minacciata. I nemici sono chiari. Basta osservare cosa scalda la platea. I nemici sono i migranti nelle invettive di Santiago Pascal, leader di Vox. Il nemico è il socialismo nel discorso dell'ospite d'onore Javier Milei. Il socialismo è la causa di tutti i mali nelle parole del presidente argentino che ha incantato la platea, cantando. Vox, il partito che ospitava la convention dei patrioti, è contro il diritto all'aborto, contro la maternità surrogata, contro il matrimonio fra persone dello stesso sesso che in Spagna esiste da anni, attacchi con frequenza, femminismo e ambientalismo. Oltre a sostenere l'abrogazione delle leggi a sostegno di chi aveva subito persecuzioni durante la dittatura franchista. Sul palco è salita anche Marine Le Pen, grande favorita nei sondaggi in Francia. In Italia, finora alleata soltanto di Salvini, ma che a margine dell'evento, dichiara di avere punti in comune con Meloni. Di certo, Le Pen è sempre stata nemica della presidente von der Leyen, che ha invece parlato dell'intesa con la presidente del Consiglio. Nel cambio in Europa è possibile senza i conservatori europei. Alle manovre in corso va giunta la decisione dei liberali olandesi di formare un governo con il sovranista Gerd Wilders, legittimazione, un leader finora considerato di estrema destra. Qualcuno spera che lo stesso possa accadere a Strasburgo, apertura dei moderati alla destra per mettere in minoranza i socialisti. La strada non è facile. Il gruppo dei centristi di Renew ha già dichiarato che i liberali olandesi, vista l'alleanza con Wilders, sono fuori dal gruppo. In Italia, Tajani ripete che allearsi con Marine Le Pen è fuori discussione. Sullo sfondo resta l'auspicio dell'ungherese Orbán. Occupiamo Lussella. Buongiorno e buon sabato, cari telespettatori. Allora, come da copertina, avrete capito che anche in questo sabato, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, ci occupiamo di Europa, di temi europei, ma anche temi domestici italiani, che sono quelli che maggiormente contrassegnano questa campagna elettorale, esattamente a due settimane dal voto dell'8 e del 9 di giugno. C'è molto movimento, ovviamente, da parte dei candidati, da parte delle grandi famiglie politiche europee, e anche da parte, come è avvenuto giovedì scorso, dei candidati, degli sfidanti alla guida della nuova Commissione europea, che appunto hanno illustrato le proprie ricette. Che cosa possiamo dire in più? Possiamo dire che, appunto, da una parte ci sono delle sfide epocali per l'Europa che verrà, dall'altra parte poi in ogni paese si consuma una campagna elettorale che soprattutto qui da noi in Italia suona molto come un referendum per il governo, insomma, per vedere qual è il gradimento nei confronti degli italiani, ma anche per le opposizioni. Come sapete, ultima cosa, è un'elezione in Italia con sistema proporzionale, con le preferenze e a differenza di altri paesi, e quindi tutto questo pesa e come. Allora, oggi ne parliamo intanto del bentornato Francesco Giubilè di Nazione Futura, che non è candidato, che ci aiuterà un po' a orientarci in tanti temi. Oggi ne parliamo con Eric Josef. Eric Josef è uno storico corrispondente di Liberation in Italia, ovviamente è candidato, quindi ha sospeso per il momento la sua attività giornalistica, ed è candidato per Stati Uniti d'Europa, per capirci, Renzi, Bonino, partito che si ispira a Renew Europe, no? i liberali europei, candidato nella circoscrizione di centro. Poi c'è con noi qui in studio l'onorevole Pier Nicola Pedicini, che è un europarlamentare indipendente uscente, che è segretario anche del Movimento Equità Territoriale, ed è candidato nella circoscrizione sud con il Movimento, anche qui per capirci di Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità. Buon sabato anche a lei. Collegati con noi ci sono l'onorevole Pina Picerno, eurodeputato uscente del Partito Democratico. Eccoci. Eccoci, ben tornata. Candidata nella circoscrizione sud. E l'onorevole Angelo Sciocca, buon sabato anche a lei, anche lui europarlamentare uscente della Lega, noto anche per i suoi pirotecnici show al Parlamento Europeo, è candidato, ricandidato, nella circoscrizione nord-ovest. Giusto? Ho detto tutto bene? Giusto, perfetto. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Grazie. Allora, Francesco Giubilei, cerco di metterla semplice, la maggioranza, la coalizione di destra, di centrodestra, diciamo, in Italia, ha un auspicio, che questa stessa, diciamo, coalizione, alleanza, si riproduca in Europa. Sì. Questo, diciamo, lo dico così, con facilità è il grande tema. Molti sondaggi ci dicono che però sarà molto complicato. Come stanno le cose? Ma le cose stanno che in prospettiva si potrà creare una alleanza tra le CR identità e democrazia, in particolare dopo la decisione di... Cioè i conservatori. I conservatori di Giorgio Meloni e identità e democrazia, il gruppo a cui afferisce il Rassemblemento Nazionale, quindi Marine Le Pen e anche la Lega di Matteo Salvini, in particolare dopo la decisione di escludere, se vogliamo, FD, che è il gruppo della destra tedesca, dal gruppo di identità e democrazia. Ci sono alcune differenze tra i conservatori e gli identitari, ma c'è anche... Ci sono tanti punti in comune che riassumerei con le parole del Presidente Milei che sono Viva la libertà e Affuera il socialismo. Quindi portare avanti delle ricette politiche che sono delle ricette politiche diverse rispetto a quelle che sono state realizzate nell'attuale legislatura europea, in particolare dalla sinistra europea e quindi dei socialisti su tutte il Green Deal che ha portato avanti un ambientalismo ideologico ma soprattutto una visione che ha una visione di Unione Europea di resista che vuole imporre ai cittadini come dobbiamo parlare, come dobbiamo vivere, con quale automobile ci dobbiamo muovere, in quale casa dobbiamo vivere attraverso la direttiva Casa Green e quant'altro. Ora, i numeri ci dicono che una maggioranza e solo, ovviamente, ECR, identità e democrazia, è impossibile, però diverso è il discorso se si includono anche i popolari. E qua viene il grande dibattito. Che è il partito, diciamo, la grande famiglia di centrodestra europea. Che è la grande famiglia di centrodestra che a mio modo di vedere dovrebbe ritornare a quelle che sono le radici del popolarismo basate su Schumann, Denauer e De Gasperi che guardano più che a sinistra, quindi più che ai socialisti, dovrebbero guardare più verso il centrodestra replicando il cosiddetto modello Italia. Anche da questo punto di vista complesso riuscire a trovare una maggioranza che tenga insieme solamente i partiti di centrodestra, però senza dubbio nella prossima legislatura europea dopo l'8 e il 9 giugno ci saranno invece i numeri per guardare una maggioranza che sia più sbilanciata verso il centrodestra e concludo dicendo cosa che in parte è già avvenuta in vari voti come per esempio in Commissione e Ambiente dove su determinati voti ancora legati al Green Deal europeo è accaduto che identità e democrazia e conservatori e popolari anche con parte dei voti dei liberali mandassero in minoranza i socialisti quindi questo è già accaduto nell'attuale legislatura europea con la prossima legislatura europea con numeri maggiori per il centrodestra potremo finalmente auspicare una nuova Unione Europea. Questa diciamo è la grande scommessa della destra del centrodestra questa era soltanto l'antipasto subito in pubblicità e apriamo un grande dibattito perché poi su quello che ha appena detto Francesco Giubilei si innestano una marea di questioni a tra poco Allora riparto da Pina Picerno perché poi sentiremo ovviamente uno dei diretti interessati in quanto della Lega l'onorevole Sciocca però voglio chiedere una cosa a Pina Picerno perché ieri c'era una lunga intervista sul Corriere della Sera del presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber che dice molte cose tra queste cose dice è molto critico nei confronti di Salvini e della Le Pen che hanno sostenuto in questi anni quasi diciamo volendo dare un accreditamento europeo appunto Alternative for Deutschland però poi dice che Fratelli d'Italia e la Meloni il governo italiano è un partner affidabile sappiamo che anche il Partito Popolare Europeo non è un monolite diciamo ci sono sensibilità come si dice in questi casi diversi però una possibile alleanza con i conservatori o se nascesse con un unico grande gruppo tra conservatori e identità e democrazia non lo possiamo escludere o no? Ma io intanto sto ai fatti e i fatti sono al di là delle diciamo idee confuse di Giubilei che sia Tajani che ha un ruolo diciamo importante all'interno della famiglia del Partito Popolare Europeo che Weber hanno escluso in maniera categorica la possibilità dell'alleanza con ID cioè quel gruppo dell'estrema destra ma perché? Perché è importante capirlo questo poi arriviamo ai socialisti ma perché questi questi gruppi politici hanno un'idea molto diversa di Europa da quella degli europeisti quello che ha tenuto insieme la maggioranza che noi abbiamo visto nel corso di questi anni con tutti i limiti lei lo sa io sono un esponente del Partito Socialista Europeo naturalmente non sono soddisfatta di tutte le misure che sono state adottate dalla Commissione ma la maggioranza von der Leyen la maggioranza Ursula ha visto insieme i socialisti con i popolari ha visto insieme con Renew con i liberali ha visto insieme cioè le forze europeiste che hanno condiviso un'idea di Europa e quella maggioranza ha determinato l'elezione della prima metà della legislatura di David Sassoli a Presidente del Parlamento Europeo e successivamente quella di Roberta Mezzola è la definizione di una Commissione con le forze politiche europeiste cosa teneva insieme questo gruppo al di là delle differenze che esistono l'idea una certa idea di Europa un minimo comune denominatore che è appunto l'europeismo che non si trova dalle parti appunto dell'estrema destra perché se noi consideriamo ne abbiamo parlato tante volte anche con lei Pancani che la sfida che noi abbiamo di fronte è quella della difesa delle democrazie liberali cioè delle regole che noi insieme ci siamo dati in questo momento contro i regimi illiberali perché questa sarà la sfida della prossima legislatura che dovrà essere una legislatura costituente dovremo riformare i trattati dovremo superare le incrustazioni che impodiscono all'Europa di essere una forza politica nel mondo ecco ai di quelle forze di destra estrema non condividono nulla di tutto questo non la vogliono la legislatura costituente non la vogliono la riforma dei trattati non la vogliono il superamento del diritto di veto quindi diceva cosa c'entra che ci azzecca mi verrebbe da dire il partito popolare europeo con l'estrema destra la risposta è nulla se poi e finisco il programma politico con tutti i casini che ci stanno del mondo me lo faccio dire Pancani della destra enunciato oggi da giubilei è mettere in minoranza dei socialisti mi arrendo mi sembra una cosa un po' è evitare le politiche dei socialisti Picerno è evitare che continuate a realizzare politiche contro i cittadini e contro l'interesse nazionale italiano ma scusate ma avete approvato delle direttive sull'automobile che metteranno in crisi tutti i cittadini aspettate un attimo perché adesso vi facciamo vedere anche una cosa che riguarda le politiche green vado da ciocca perché voglio dire una cosa Pina Picerno ci ha spiegato dal suo punto di vista come la pensa però ci sono delle sfide io prima dicevo all'inizio che l'Europa deve affrontare delle sfide enormi ne cito due che sono diciamo quelle più attuali una sfida economica che riguarda il rapporto con la Cina con gli Stati Uniti l'autonomia strategica la reindustrializzazione la voglio chiamare così e poi una sfida che riguarda la sicurezza cioè la difesa comune allora bisogna capire se su questi grandi temi magari lì come dire le diverse famiglie europee al loro interno la pensano in maniera diversa non lo so lo chiedo a Angelo Sciocca che può anche replicare ovviamente a quanto appena detto Pina Picerno ma intanto io vorrei invece sottolineare che la visione la proiezione e l'analisi fatta da Giubileo è un'analisi realistica e lucida aggiungerei a quell'analisi realistica e lucida che ovviamente quanto fatto negli ultimi anni dall'Europa detterà delle reazioni da parte del popolo europeo da parte dei cittadini europei io ho capito qualcuno sta cercando di non far votare la gente portandola nella gabbia del non voto d'altronde la scelta del giorno ne ha la testimonianza al posto di scegliere domenica e lunedì l'Europa è andata sul limite della domenica e quindi siamo arrivati a votare a sabato e la domenica soprattutto sabato e domenica che è il primo weekend dopo la chiusura delle scuole quindi è chiaro che il voto popolare il voto dei cittadini soprattutto quelli arrabbiati contro questa Europa spaventa spaventa perché perché il prossimo voto europeo chiuderà la prima la prima stagione dell'Europa vi ricordate quando parlavamo della fine della prima repubblica in Italia ecco è la fine della prima repubblica europea quindi questo voto chiuderà i vecchi contenitori obbligherà quello che è successo in Italia dopo 50 anni di politica dopo 50 anni di assetto europeo ad uscire dalla naftalina dei vecchi contenitori e costruire un progetto nuovo di un contenitore nuovo per il quale si dovrà leggere la volontà degli elettori che è quella del cambiamento rispetto alla direzione di marcia attuale quel cambiamento da dove passa passa da un nuovo assetto di centrodestra che piaccia che non piaccia questa sarà la realtà quindi la fine della prima Europa e l'apertura di una seconda stagione europea che passa da un contenitore di centrodestra dove la Lega vuole essere assolutamente protagonista dove Ciocca vuole essere protagonista in questo nuovo assetto le faccio due domande brevi è possibile pensabile un unico gruppo conservatori riformisti identità e democrazia sono convinto di sì guardi io sono convinto che la nuova stagione europea passa da questo coraggio il coraggio che i conservatori che i di che i popolari abbiano una visione diversa da quella attuale di un assetto di un centrodestra europeo del quale la Lega vuole essere protagonista è chiaro che questo assetto passa da un game over di Ursula von der Leyen che non può passare da un Ursula von der Leyen bis ovviamente questo lo capisco mi risponde a un'altra domanda perché dice Pina Picerno la differenza diciamo tra voi e noi che noi siamo europeisti e voi siete diciamo usando un eufemismo euroscettici se non addirittura contro l'Europa noi siamo realisti nel senso che oggi è un dato oggettivo l'ha detto prima Giubilei questa Europa si è dimostrata la nostra prima nemica nemica delle nostre case nemica delle nostre macchine nemica della nostra agricoltura ragazzi si è sostenuto che il vino fa male la carne fa male il sistema agroalimentare farebbe male bisogna finanziare insetti e carni sintetiche quindi noi dobbiamo passare da un'Europa nemica delle famiglie dei cittadini è un'Europa alleata questa è la visione del centrodestra europeo l'Europa deve essere alleata con i nostri interessi economici altrimenti cosa accade quello che è evidente che la crescita europea non avviene e crescono altri paesi se guardate il prodotto interno lordo degli Stati Uniti lo confrontate con quello dell'Unione Europea 15 anni fa avevamo tutti e due 14 mila miliardi di dollari eravamo uguali a 15 anni di distanza non 150 gli Stati Uniti sono andati a 28 miliardi di euro e purtroppo l'Europa è rimasta a 14 mila miliardi siamo rimasti fermi loro ci hanno raddoppiato anche se certo però la realtà degli Stati Uniti e quella europea ci sono molte differenze sono le politiche sono le politiche degli Stati Uniti e le politiche dell'Unione Europea allora aspetti ciocca perché poi adesso entriamo nel merito di un paio di questioni che secondo me plasticamente fanno capire anche le differenze di visione voglio coinvolgere in questa invece discussione subito sia Pia Nicola Pedicini che Rick Giosef però vi faccio vedere l'altro giorno il WWF in Italia ha convocato rappresentanti di diverse forze europee dicendo ma voi sul Green Deal come la pensate in vista di queste europee vediamo l'ambiente è una precondizione non è una condizione è una precondizione senza la quale non ci possono essere l'economia non ci può essere la scuola non ci può essere la sanità non ci può essere nulla di tutto questo chi ha cercato le parole ambiente, natura e clima lo ha fatto il WWF nei programmi per le elezioni europee non le ha trovate l'eco anzi accompagnerà un italiano su quattro al voto l'impegno dei partiti sui temi ambientali guiderà nella scelta il 56% degli italiani un sondaggio commissionato dal WWF a Utrend conferma che la metà degli elettori reputa utile la strategia per ridurre le emissioni di CO2 e quel che è peggio sa che l'Unione Europea potrebbe fare passi indietro su alcuni degli obiettivi del Green Deal a differenza tra uno statista e un politico come si diceva una volta lo statista è quello che guarda alle prossime generazioni il politico è quello che guarda alle prossime elezioni noi siamo sostenitori della cosiddetta neutralità tecnologica che vuol dire condividiamo l'obiettivo ma lasciate poi alle nazioni ai territori la scelta di quale sia la strada migliore per raggiungere quell'obiettivo io capisco che si vuole fare una campagna che ci si trasforma in una sorta di imprenditori della paura per mettere paura e dire guardate la conversione ecologica attenzione diventerete tutti più poveri bla 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 e così via dicendo la direttiva a casa green non obbliga i proprietari a ristrutturare penso ad una norma che in Italia non siamo riusciti a portare a casa la norma sul consumo di suolo perché è un tema troppo importante il rischio da cementificazione e da mancata rigenerazione là dentro intervengono anche tutti i concetti collegati alle case green pensate questa legislatura è iniziata con il green deal nel 2019 però abbiamo finito questa legislatura facendo non una marcia indietro ma dieci marce indietro quando diciamo che costa la transizione mi piacerebbe chiederci quanto costa non farla quella transizione certo che ha un costo la conversione ecologica ma dobbiamo cominciare a fare delle scelte principalmente non può essere a carico dei ceti sociali medi bassi di Mario Draghi è arrivato al punto di dire fermatevi un attimo adesso introduciamo la tassa sugli extraprofitti energetici vogliamo dire per esempio che probabilmente una tassa europea sugli extraprofitti da fossile andrebbe posta dove nascere un discorso di mix energetico tant'è che è entrato nel piano energetico strategico il nucleare bisogna rivedere profondamente l'implementazione del Green Deal per renderlo compatibile con i tassi che anche quelli sono individuabili di trasformazione industriale Allora riparto da Enrico Gioseffe intanto sulla materia del primo confronto magari chiedendoti in quanto anche giornalista e conoscitore peraltro dell'Italia e della Francia intanto cosa pensi? Pensi che davvero l'attuale governo dell'Europa possa cambiare? L'attuale governo dell'Europa deve cambiare e le istituzioni devono essere cambiate per avere appunto istituzioni che siano in grado di decidere non si può continuare a prendere grandi decisioni all'unanimità Questo è uno dei punti Questo è il punto essenziale poter decidere è come se per alcune decisioni ad esempio politica estera Antonio Tajani prima di poter prendere una decisione dovesse riunire le 20 regioni italiane e dovessero le 20 regioni italiane decidere all'unanimità per fare in modo che l'Italia possa prendere una posizione Questo non può funzionare è quello che oggi succede in Europa In Europa per le grandi decisioni si deve avere l'unanimità e questo non può più andare avanti ma vorrei tornare un po' perché si è sentito che la prima stagione è finita dell'Europa Lo diceva Angelo Sciocca la prima stagione è finita Però ricordiamoci che la prima stagione dell'Europa se fossero stati appunto i partiti in Italia Lega o Fratelli d'Italia questa prima stagione avremmo un'Europa senza moneta unica senza libera circolazione senza Schengen avremmo senza Next Generation EU perché la Lega il PNR l'ha sostenuto ma Fratelli d'Italia non voleva Next Generation EU che porta 10% del PIL italiano in soldi europei per rilanciare questo in questa fase non esisterebbe se fossero appunto Lega e Fratelli d'Italia dunque la prima fase teniamocela bene poi la seconda fase bisogna ricordare anche non fare demagogia perché adesso si sente bisogna difendere gli agricoltori i cittadini ma se ricordo bene Fratelli d'Italia la Lega e la politica agricola comune l'hanno votata l'hanno approvata poi dopo visto che gli agricoltori si alzano scendo in piazza dicono ah no assolutamente questo è l'Europa che ce li impone questo non è più possibile continuare così e oggi veramente sentiamo appunto adesso si mobilita contro questo Green Deal che ci sarebbe imposto bisogna vedere anche il resto del mondo se non facciamo noi il Green Deal vediamo ad esempio che gli Stati Uniti però la prima accusa è che l'Europa fa la prima della classe diciamo essendo come area geografica una delle aree meno inquinanti rispetto agli Stati Uniti rispetto al Brasile rispetto all'India rispetto alla Cina dice ma perché noi che inquiniamo molto meno abbiamo le regole più rigide questa è la grande questione per due motivi il primo perché abbiamo un passato è che siamo quelli che hanno storicamente inquinato di più con la rivoluzione industriale e dunque abbiamo una responsabilità storica e il secondo perché è vero che in termini di massa inquiniamo meglio la Cina ma inquiniamo di più per abitante ogni abitante ad esempio io in testa e mi scuso ma in testa le cifre per la Francia la Francia ogni francese sono 4 tonnellate di CO2 più quelli importati sono 11 tonnellate di CO2 in Africa è 0,7 in Cina è meno e dunque noi se noi non cominciamo a ridurre e se invece diciamo noi riduciamo e gli altri devono fare come noi e allora non ci vorrebbe una pianeta ma 2, 3, 4 pianeta però questo che Enrico Giuseppe ci sta dicendo ci espone all'altra grande critica così facendo Stati Uniti e Cina prendiamo due giganti hanno dei vantaggi competitivi su di noi giganteschi quello che non ci rendiamo conto è che loro stanno cambiando il provvedimento di Biden di circa 400 miliardi di dollari per investire nel cambiamento climatico che ha attirato molto investimenti privati loro lo stanno facendo i cinesi lo stanno facendo Shanghai sta diventando una città in cui ci sono solo macchine elettriche hanno prodotto milioni di macchine elettriche mi verrebbe da replicare se l'Europa vuole fare la prima della classe ci mettessi i denari perché se poi questo va a scapito delle fasce più debole della popolazione come sappiamo non è un segreto per nessuno come facciamo? Ma è questo il tema è mettersi insieme per poter continuare a levare dei soldi per poter investire per investire tecnologicamente nel rinnovo delle case e non bloccare appunto l'accordo sul cambiamento delle case il cambiamento termico che di più una volta che uno ha fatto l'investimento per ridurre il spreco energetico guadagna questo bisogna farlo a livello europeo questo bisogna continuare a investire e anche ad esempio è assurdo che ci sono quasi 300 miliardi di euro all'anno di risparmio europei che vanno a finanziare il mercato americano perché non abbiamo un mercato dei capitali uniti sufficiente per attrarre i risparmi europei e questo è necessario per fare gli investimenti adesso poi dopo non me lo dimentico torniamo sulla questione l'unanimità o meno che è cruciale a Pedicini chiedo due cose intanto sulla scia di questo ragionamento del Green Deal però è molto legato questo a quello che è un po' lo scopo la filosofia del vostro movimento perché pace terra e dignità diciamo nel core business della sua partecipazione a queste europee ha pace e allora lì si intreccia il fatto che l'Europa secondo molti abbia fatto una grande retromarcia sul Green Deal e stia diciamo perseguendo il War Deal è così? è esattamente così io parto da un'esperienza che abbiamo potuto vedere assistere direttamente intanto il Parlamento europeo si è sempre diviso su tantissimi temi intorno anche alle questioni delle alleanze si è sempre diviso e solitamente le destre sono state anche soggette a quello che viene denominato cordone umbellicale cordone sanitario per isolare le destre quando abbiamo visto che tutto il Parlamento si esprimeva all'unisono quando si è deciso di spedire più armi quando si è deciso per la politica sanzionatoria alla Russia che è stata molto controproducente per noi e non per la Russia quando si è deciso di fare sempre più guerra il Parlamento europeo tranne pochissimi casi io sono uno di quelli si è espresso tutto all'unanimità per più guerra per più armi per sostenere l'industria delle armi questo vuol dire sottrarre risorse all'ambiente vuol dire sottrarre risorse al sociale vuol dire sottrarre risorse alla nostra sanità tra l'altro noi siamo uno dei paesi più indebitati dell'Unione europea anzi siamo il più indebitato dell'Unione europea e quindi non abbiamo una disponibilità fiscale una capacità fiscale per occuparci del nostro sociale se noi aderiamo ad accordi come quello del 2% che ci impone la Nato del PIL per l'industria delle armi dobbiamo per forza tagliare sul sociale taglieremo sul sociale taglieremo sul sud perché poi quello che abbiamo potuto osservare che c'è un banco in Italia è che il sud Italia quando non ci sono i soldi si va sempre a pescare più nel sud per quanto riguarda quello che diceva Ciocca e cioè anche la questione io sono d'accordo con quanto è stato detto prima la questione del Green Deal io sono stato al Parlamento europeo quando col diretti e tutti la rappresentanza italiana tutti ci chiamavano per votare a favore della PAC io sono uno dei cinque italiani che ha votato contro la PAC però oggi tutti quanti gli agricoltori insieme ai partiti che hanno votato a favore della PAC sono sulla strada con i trattori a dire che no bisogna votare contro la PAC è ciò che ha votato a favore per ricordare per tenere viva la memoria la maggior parte degli agricoltori che hanno protestato in Italia e in Europa non si riconoscevano nelle grandi confederazioni agricole appunto però ecco allora arrivo a questo punto io ero a Bruxelles quando sono arrivati i trattori chi c'era in prima fila davanti ai trattori c'erano tutti quelli di Coldiretti cioè le grandi corporation anche italiane degli agricoltori che rappresentavano questa battaglia erano loro che ci dicevano di votare loro hanno detto di votare e loro protestavano contro quello che ci hanno detto di votare si erano sbagliati come l'interprete non hanno capito intanto non studiano perché qual è il principale obiettivo che hanno ottenuto con questa protesta che adesso anche in Europa si può continuare a utilizzare il glifosato ma noi che cosa abbiamo guadagnato con questo il glifosato permette al Canada di trattare il grano canadese di portarlo quindi in Italia così come quello ucraino e di fare concorrenza sleare con le nostre aziende che producono grano quindi Ciocca va a difendere i nostri nemici perché noi abbiamo il sole il Canada non ce l'ha questo sole quindi noi abbiamo perso nel fare il grano duro che serve alla nostra pasta abbiamo perso le nostre aziende che producevano questo grano duro e l'abbiamo perso siamo pure contenti che abbiamo permesso di utilizzare il glifosato che fa male anche alla salute permettendo al glifosato al grano canadese di entrare indisturbato in Europa e in Italia però io le devo fare una domanda ovviamente ovvia conseguenza di quello che voi rappresentate dal punto di vista di filosofia politica cioè intanto una difesa comune mettiamola come vogliamo europea prevede che ci sia uno sforzo anche di risorse a parte ottimizzare le risorse dei singoli paesi uno sforzo comune questo rispondendo al fatto che lei dice noi in questo modo sottraiamo come dire risorse e soldi per la sanità per il sociale eccetera ma non è vero un attimo arrivo vicendo la seconda domanda è se l'Europa non si dota di un sistema di sicurezza di un certo tipo e qui rientra tutta la partita della guerra in Ucraina che facciamo lasciamo che Putin faccio il bello e il cattivo tempo che cosa facciamo lo sa che questa è la critica principale che si fa a chi dice basta con le armi all'Ucraina poi possiamo discutere su quello che è successo fino ad oggi l'Europa ha dei trattati costitutivi che tutti si dimenticano anche la von der Leyen che è il presidente della commissione europea deve seguire i trattati costitutivi che prevedono che l'Europa debba perseguire la pace la carta di Parigi l'atto finale di Helsinki impongono che il tracciato politico dell'Unione europea è quello diplomatico l'Europa deve andare lì deve far rispettare avrebbe dovuto far rispettare il trattato di Misk avrebbe dovuto fare in modo che la diploma noi non dobbiamo inviare più armi noi dobbiamo inviare diplomatici e trovare soluzioni diplomatiche alle guerre e non dobbiamo seguire il dettato che arriva dagli Stati Uniti che ci dice compriamo sempre più armi perché poi queste armi che compriamo significherà togliere allora devo andare adesso tutti tutte le repliche tutte le opinioni ma dopo la pubblicità e inserisco un elemento visto che stiamo parlando anche di guerra perché a dimostrazione di un'Europa disunita completamente l'altro giorno l'annuncio da parte di Norvegia Spagna e Irlanda che dal 28 di questo mese riconosceranno la Palestina dopo la pubblicità Martedì prossimo 28 maggio la Spagna approverà nel suo Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello Stato di Palestina è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti per dire ai milioni di palestinesi innocetti e sofferenti che siamo con loro che c'è speranza All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 maggio ben 143 paesi hanno votato a favore di una risoluzione a sostegno della visione palestinese all'ONU e vale di appena notare che tra questi 143 ci sono 23 paesi che non hanno ancora riconosciuto la Palestina come Stato la Norvegia era tra questi ora lo stiamo facendo e sarà formale questo è un giorno storico e importante per l'Irlanda e la Palestina il 21 gennaio 1919 l'Irlanda chiese al mondo di riconoscere il nostro diritto ad essere uno Stato indipendente oggi usiamo lo stesso linguaggio per sostenere il riconoscimento della Palestina come Stato l'Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato palestinese ma è uno Stato palestinese che deve riconoscere Israele e Israele deve riconoscere lo Stato palestinese non possiamo pensare a uno Stato palestinese guidato da Hamas che Hamas è un'organizzazione terroristica quindi finché c'è Hamas non si può discutere noi riconosciamo l'autorità nazionale palestinese e con loro vogliamo lavorare e e e e riviene da dire cara Pina Picerno ma con l'Europa così in ordine sparso ma dove andiamo peraltro visto che uno dei temi di cui non si parla assolutamente in questa campagna elettorale io mi riferisco sempre mi limito all'Italia non so cosa succede negli altri paesi è l'allargamento dell'Europa e quando l'Europa sarà allargata più stati se da un punto di vista strategico politico ha una razza ovviamente tutto questo ma come si fa a gestire la politica estera che credo peraltro sia precondizione per una politica di difesa come si fa? Allora provo anche a replicare alcune considerazioni che venivano fatte prima l'Europa nasce con la pace e per la pace ma la neutralità rispetto a un mondo che si sta incasinando sempre di più è un lusso che noi non ci possiamo permettere perché altrimenti non siamo più una potenza politica e diplomatica ma siamo Ponzio Pilato ecco siccome io penso che l'Europa non debba essere Ponzio Pilato ma debba appunto difendere le regole che noi insieme ci siamo dati perché noi abbiamo stabilito delle regole e tra queste regole c'è il fatto che non si modificano i confini degli stati con l'utilizzo dei cararmati ok? Viene riconosciuta appunto l'integrità e la legittimità degli stati e quindi il sostegno all'Ucraina significa appunto sostenere le regole che noi ci siamo dati difendere le nostre democrazie da un regime illiberale quello di Putin che ovviamente sta incasinando il mondo ok? scusate vi ho perso ecco che sta incasinando il mondo è scomparsa ecco adesso ora sono prego ora sono riapparso evidentemente Putin le interferenze di Putin scherzo naturalmente ora l'allargamento perché lei citava un argomento interessante importante l'allargamento è stato esso stesso uno strumento di difesa comune perché quello che è successo a Kiev sarebbe stato impossibile in una qualsiasi delle capitali europee perché l'adesione all'Unione Europea è stato esso stesso uno strumento di difesa nel corso di questi anni ecco perché in queste ore mentre noi discutiamo in Georgia ci sono ragazzi donne migliaia di persone in piazza per chiedere un futuro europeo per sottrarsi appunto ad una come dire subordinazione rispetto alla Russia di Putin è già successo in Ucraina con Euromaidan ve li ricordate quei ragazzi morti con la bandiera dell'Europa sulle spalle morti ammazzati per chiedere un futuro europeo per Kiev allora noi siamo in questo scenario qui e quindi è chiaro che in questo scenario qui come lei ricordava Pancani la difesa comune la una politica estera degna di questo nome sono come dire non più possibilità sono strumenti essenziali per dare all'Europa quella forza che oggi possiede soltanto in potenza e che è necessaria perché come ho detto prima il mondo si è incasinato parecchio non è più il mondo di dieci anni fa in cui l'Europa era uno spazio in cui si venivano si vedevano garantiti così un po' con il pilota automatico pace e benessere non è più quel mondo lì noi abbiamo bisogno di un continente forte e attrezzato e per questo bisogna superare il diritto di veto prendere le decisioni esattamente ma sulla scia di quanto lei sta dicendo adesso giro la domanda sia a Ciocca sia a Francesco Giubilei cioè se noi aspiriamo pensiamo di poter aspirare come Europa europei a una politica estera comune a una difesa comune questo come si tiene con le decisioni all'unanimità Ciocca io questo non l'ho capito io penso che le decisioni avvengono quando il soggetto è credibile qui c'è un problema che il soggetto Europa non è credibile è visto come un soggetto nemico degli interessi dei nostri paesi e questo purtroppo lo dico i numeri anche questo continuo a parlare di Green Deal e continuo a voler rincorrere in modo scorretto perché si usa il voler raggiungere come obiettivo il rispetto dell'ambiente e poi i numeri ci danno contro ma è ovvio intanto l'Europa fa il 7% dell'inquinamento mondiale Cina e l'India fanno il 42% Cina e l'India e gli Stati Uniti fanno il 54% quindi da quando eravamo bambini sui primi banchi di scuola ci insegnavano che fine fanno gli erbivori se stanno in mezzo i carnivori quindi l'erbivori in mezzo al carnivoro non campa a lungo e quindi avere un'Europa che dice dovete fare gli erbivori dovete fare gli erbivori attorno ci girano i carnivori non è che andiamo bene e purtroppo l'Europa oggi sta facendo questo per avvantaggiare altri paesi per avvantaggiare altri continenti a discapito dei nostri paesi che continuano a scendere come paesi più poveri al mondo e quindi i nostri figli dovranno imparare l'italiano per venire a trovare i nonni nelle vacanze di Natale perché dovranno lasciare l'Italia per andare a lavorare in Cina in India negli Stati Uniti in Pakistan in Egitto in tutti i paesi che oggi per colpa delle politiche europee stanno emergendo questo è il vero tema allora io dico la finiamo di usare una tematica seria come l'ambiente che genera solo lo spostamento di interessi economici dalle nostre famiglie ad altri paesi e inquiniamo ancora di più anche un bambino di terza elementare sa benissimo che se un prodotto lo facciamo in Europa o lo facciamo a chilometro zero quel prodotto per trasportarlo non inquina se lo facciamo in altre parti del mondo e lo dobbiamo portare poi in Italia le navi inquinano gli aerei inquinano i camioni inquinano e quindi l'inquinamento continuerà a aumentare se perdiamo le produzioni riportiamo le produzioni nel nostro territorio non possiamo pensare che il futuro secondo questa Europa è mettere i pannelli fotovoltaici sui campi di grano e fare arrivare il grano dall'Ucraina o dal Canada e scusatemi fatemi dire solo l'ultima cosa gli agricoltori non protestavano per la PAC a me dispiace che qualcuno non è neanche in grado di ascoltare gli agricoltori che protestano noi ci sono andato diverse volte protestavano per gli accordi di libero scambio protestavano per il fatto che il prezzo purtroppo che gli viene riconosciuto di molti prodotti non è sufficiente per la loro sopravvivenza quindi contestava ad esempio quei partiti che hanno votato vi ricordate il famoso accordo CETA vi ricordate sei anni fa quando ci fu la discussione in commissione di cultura del CETA che fine ha fatto io capisco che è andato in difficoltà ma fatemi solo finire sei anni fa ci sono dei partiti che hanno votato l'accordo di libero scambio col Canada la Lega no come non abbiamo votato quello col Vietnam la Lega no come non abbiamo votato quello con la Cambogia sul riso la Lega no quindi sono gli accordi di libero scambio votati di alcuni partiti quasi tutti vorrei sottolineare che stanno mettendo in ginocchio la nostra agricoltura come quei neuro parlamentari che hanno votato in commissione tumori che il nostro vino le nostre carni i nostri formaggi farebbero male ma si può essere così stupidi questo è chiaro però è tutto chiaro e so che la questione Green le sta molto a cuore però adesso vado a Francesco Giubilei siccome non mi ha risposto mille miliardi non ha risposto alla domanda mille miliardi sì sì ma no ma nessuno lo sottovaluta ciocca immaginiamo però la domanda è quella cioè se l'Europa deve decidere che postura avere con lo Stato nascente o meno se mai ci sarà di Palestina e c'è il voto all'unanimità e qualcuno non ci sta come fa a fare la politica ma sì ma il problema io no no ti ho fatto un esempio adesso come si fa io non l'ho capito ma come si fa io ho sentito l'apicerno che come sempre ha raccontato ma non solo lei diciamo anche la sua parte politica tutto un libro di sogni basato sull'Europa l'europeismo i valori la solidarietà e quant'altro e questo è un po' il libro dei sogni e poi c'è la realtà e la realtà che cosa si racconta si racconta che Emmanuel Macron presidente della Francia una mattina si sveglia e senza consultare nessun altro leader europeo senza consultare nessun altro leader dei paesi della Nato dice mandiamo l'esercito e gli eserciti europei in Ucraina e allora il punto di fondo è che se l'Europa non si dota prima di una politica estera comune è iniziale che noi continuiamo a fare tutto il dibattito bello teorico sulla necessità dell'esercito comune perché l'esercito comune europeo se noi lo avessimo io immagino che questo esercito comune come è avvenuto in tanti altri ambiti sarebbe un esercito in mano ai francesi probabilmente ai tedeschi che lo userebbero vedi l'Africa vedi quanto accade in Libia nel 2011 contro gli interessi nazionali italiani e questo è il primo punto il secondo punto è se la politica estera europea deve essere il riconoscimento dello Stato di Palestina e quindi in questa fase riconoscere Hamas auguri perché se questa deve essere la ricetta in questo momento immaginare un modello d'Europa che è il modello che stiamo vedendo anche in questi giorni in Italia con le università italiane e il centro al caso di Corino occupate con gli imam che fanno i sermoni se questo è il modello per carità ma faccio un esempio più banale l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Cina che non è solo un discorso economico di business di interscambio ma anche politico domani che l'Europa dovesse decidere una politica estera comune nei confronti della Cina lo possiamo fare all'unanimità o meno questa è la grande questione perché sappiamo tutti che ci sono paesi come la Germania che con la Cina continuano a fare business l'Italia si è un po' ritratta altri paesi hanno interessi cioè le grandi questioni le questioni diciamo sovranazionali le possiamo continuare a gestire con il voto all'unanimità o no questa è la domanda qua c'è un grande problema che l'Unione Europea è un'entità che interviene talvolta su delle piccole questioni che dovrebbero rimanere in capo agli stati quindi non è in grado di discernere le differenze state nazionali però sulle grandi questioni esatto Andrea sulle grandi questioni l'Europa è un attore che è totalmente assente perché no no perché per esempio sul tema della Cina perché il vostro amico Orban però scusate se noi ci vogliamo prendere in giro e dire che l'Ungheria che è una nazione da 10 milioni di abitanti che ha il prodotto interno all'ordo dell'Emilia Romagna decide le dinamiche europee allora ci stiamo prendendo in giro ma no la Francia ma l'Ungheria ha il diritto di veto benissimo che poi non esercita che poi non esercita mai effettivamente però chi decide si ricorda di Hong Kong si ricorda in Parlamento europeo ma anche si ricorda che il suo che il governo di Meloni ma si ricorda che il governo di Giorgia Meloni da solo ha bloccato la riforma del meccanismo europeo di stabilità da solo grazie a Dio grazie a Dio aggiungo per fortuna che l'ha bloccato tutti gli altri paesi dell'Unione Economica e Monetaria erano favorevoli alla riforma l'Italia l'ha bloccato e poi dopo puoi dire che l'Europa si occupa delle piccole cose certo perché quando si occupa delle grandi cose la narrazione che l'Ungheria ha le sorti dell'Unione Europea è una narrazione fallace perché i commissari i rischi di questo confronto e sempre poi sui singoli aspetti io non vorrei occuparmi del singolo aspetto anche mi pare il Lussemburgo sulla questione fiscale ha paralizzato l'Europa perché aveva dei vantaggi propri ma io questo lo posso capire cioè io non è che come dire voglio ragionare ogni paese ha le proprie peculiarità i propri interessi e quelli sono legittimi io dico una cosa diversa in un club a 27 come adesso l'Europa si può continuare a ragionare sui grandissimi temi in primis politica estera ammesso che mai ci si riesca all'unanimità o meno questa è la domanda che io faccio questo io non ho capito allora se vogliamo fare questo cambiamento deve essere un cambiamento dei trattati europei perché poi pone anche un tema legato all'allargamento noi continuiamo a parlare dell'allargamento ma quando entreranno altri paesi come per esempio i Balcani o per esempio in Moldavia sarà ancora più complessa la situazione sarà evidentemente e voglio vedere far rispettare la direttiva Casa Green in Moldavia adesso ci torniamo subito Paolo scusami ma come vedi è appassionante la discussione finalmente parliamo di temi europei weekend come? allora oggi la carta parla da sola perché vedete che di fenomeni localmente intensi quelli fra il rosso e il giallo come colori sono presenti ancora in alcune zone del nord sono presenti al centro in parte al sud quindi una giornata con tempo frequentemente instabile instabile significa che si formano nuvole intense che danno fenomeni intensi non in maniera estesa in maniera isolata ma nelle ore calde quindi nelle prossime ore sicuramente questo avviene domani magicamente tutto si calma perché scompaiono i fenomeni intensi restano ampie zone di sereno le zone in bianco qualche debolissima pioggia qui e là e quindi quello che oggi diciamo è messo un po' in forza domani dal punto di vista della festa è assolutamente garantito ma lunedì si riaffaccia qualcosa da nord ovest sulla Francia ci sono fenomeni intensi sul nostro nord ovest ci sono fenomeni intensi e questo significa che l'inizio della settimana che ieri avevamo definito in salita significa che a inizio settimana ci sarà un nuovo peggioramento alla faccia della primavera grazie confortante subito in pubblicità tra poco allora come tutti noi Enrico Giuseppe era molto appassionato da questa discussione perché poi voi già nella denominazione Stati Uniti d'Europa avete un logo che contrasta con quello che si legge sul logo della Lega di Salvini che dice meno Europa più Italia poi bisogna capire come interpretare questo ma io su questo voto all'unanimità o meno il diritto di veto non ho ancora ben capito come si farà sulle grandi questioni appunto bisogna riformare i trattati ma per riformare i trattati a novembre scorso il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione per chiedere l'apertura di una convenzione per proprio riformare i trattati e andare al di là del voto all'unanimità e dunque del diritto di voto è stato approvata da poco dunque adesso si aspetta dal Consiglio Europeo e alla Commissione la risposta per lanciare questa convenzione notiamo che Fratelli Italia e Lega hanno votato contro non l'ho approvata e non vogliono riformare adesso poi ce la facciamo spiegare da sciocca Pedicini voi su questa questione come la pensate? allora si deve aprire questa stagione delle riforme in Unione Europea io voglio precisare un fatto intanto sulla politica estera il Parlamento Europeo non ha voce in capitolo no? certo dipende dal Consiglio dai Paesi dai singoli governi è un trattato intergovernativo che vede la decisione all'unanimità ma poi l'esecutore non è neanche la von der Leyen ma è Joseph Borrell cioè l'altro rappresentante per gli affari esteri quindi chiaramente una distonia a livello europeo che non può essere non può essere gestita in questa maniera è necessario aprire questa stagione di riforme ora anche per riprendere quello che diceva Lapicerno è vero che l'Europa va cambiata ma è vero che va cambiata in primo luogo evitando che vi sia questa grande ipocrisia europea perché è vero che la Russia ha violato il diritto internazionale entrando questo è un dato di fatto e quindi noi dobbiamo condannare questa violazione del diritto internazionale ma perché poi l'Europa condanna questa violazione e poi non si accorge delle violazioni del diritto internazionale di Israele che partono già dal 1947 cioè la risoluzione 187 che è quella costitutiva quella istitutiva di Israele è stata subito violata e poi ce ne sono state n di risoluzioni violate la condizione che è arrivata oggi che ha portato a questi fatti drammatici senza voler negare e condannare i fatti del 7 ottobre ma sono stati creati piano piano fino ad arrivare a una situazione più insostenibile quello che noi dobbiamo pretendere dalle istituzioni europee è che si rispetti il diritto internazionale Ursula von der Leyen non avrebbe mai dovuto stringere la mano a Netanyahu mentre commetteva crimini di guerra perché questo stesso fatto è una violazione del diritto internazionale e noi lo dobbiamo condannare non possiamo permettere che adesso si presenti scusi mi perdoni no no arrivo io dico una cosa molto più banale c'è un diritto internazionale forse molto più banale una cosa è la guerra in Ucraina in Europa con paesi l'Ucraina non è in Europa nell'Unione Europea no no lo dico nell'Unione Europea e nella Nato che sono ai confini dell'Ucraina una cosa è una guerra terribile come lei giustamente diceva che si svolge però in un'altra come dire area seppur molto vicina all'Europa no? cioè le minacce sono ben diverse ma la ricaduta la ricaduta in tutti i sensi non soltanto morale no noi non possiamo più vedere che muoiono 14 mila bambini sparati in testo questo è insopportabile lei ha ragione questo è insopportabile ma la ricaduta anche economica di tutto questo chi la paga? allora la pagano intanto quando ci sono le guerre quando ci sono le crisi economiche che seguono alle guerre a pagare di più intanto creano le disuguaglianze aumentano le disuguaglianze i ricchi diventano sempre più ricchi e i territori più poveri pagano sempre di più il territorio più povero dell'Unione Europea è il Sud Italia noi del Sud Italia sono quelli che pagano di più queste scelte scellerate sulla guerra e le continueremo a pagare intanto con l'inflazione e intanto perché poi si sottraggono risorse al PNRR con il definanziamento al Fondo di Sviluppo e Coesione che è per l'80% e al Sud si toglie al Sud si prende nel Banco ma per il Sud e si fanno le guerre è Piccerno ma è studiare e se vince Putin la ricostruzione dell'export con grandissimo rispetto di tutte le regioni del Sud però è un po' una ricostruzione fantasiosa nel senso che in teoria solo ad oggi le regioni del Nord che danno risorse alle regioni del Sud non è che si tolgono risorse alle regioni del Sud come che ha detto i dati economici italiani sono le regioni contributori nette questo è un calcolo sballato che si continua a narrare esistono i conti pubblici territoriali un organismo dello Stato che certifica che per ogni cittadino italiano pro capite la spesa al Sud quella dello Stato è meno 4 mila euro per ogni cittadino quindi noi siamo 20 milioni al Sud aspetta conti pubblici territoriali siamo 20 milioni per avere la stessa spesa pubblica dello Stato ci vorrebbero 80 miliardi all'anno al Sud per pareggiare quella che viene fatta al centro e al nord questo non c'è da niente con la guerra se tu non lo capisci non ci posso fare nulla in ogni caso le spese delle regioni del nord vengono ridate allo Stato centrale che le redistribuisce le spese delle regioni del nord sono maggiore la tassazione guarda la tassazione è uguale in tutta quanta Italia il residuo fiscale è una balla sai perché come residuo fiscale è una balla è la base dei conti ascolta ascolta riscriviamo l'economia ascolta no no io sono in commissione economica queste cose le vediamo dalle migliori università del mondo la Lombardia ha un maggiore residuo fiscale semplicemente perché ci sono più persone che guadagnano e c'è meno disoccupazione e lo sai perché? perché lo Stato ha fatto più spesa pubblica e ha creato le condizioni economiche per ottenere questo risultato quindi l'obiettivo è di pareggiare la spesa pubblica va beh scusate scusate allora Picerno rapidamente perché stiamo per finire Picerno allora io sono d'accordo con Pedicini che c'è un problema serio che riguarda il mezzogiorno lo dico anch'io da figlia del mezzogiorno da meridionale ma soprattutto da meridionalista perché la spesa pubblica per investimenti verso il mezzogiorno è stata progressivamente diminuita da tutti i governi è da tutti i governi in questo governo in particolare c'è una visione antimeridionalista lo sappiamo lo vediamo con quel disegno di leggi calderoli con l'autonomia differenziata che amplifica che pregiudicherà in maniera definitiva il presente e il futuro del nostro territorio perché non saranno più raggiunti i livelli essenziali di prestazione perché non c'è un euro per raggiungere spieghiamolo a chi ci ascolta a chi ci guarda livelli essenziali di prestazione significa istruzione significa sanità significa servizi essenziali per i cittadini quindi c'è un tema gigantesco che riguarda il nostro mezzogiorno su cui noi faremo battaglia politica nel paese con un referendum per opporci in maniera chiara e definitiva l'abbiamo già fatto in passato i cittadini italiani hanno già bocciato la devolution hanno già bocciato la devolution caro giubilei un po' di tempo fa quindi lo faremo ancora insieme alle cittadine capisco che mi pensa sempre però l'ho zitto non ho detto niente tutto il PD tranne bonaccini perché qua devo finire non so chi interveniva però insomma è un tema rilevante ma non c'entra niente però lo dico in più con la questione del sostegno all'Ucraina perché non c'entra c'entra proprio zero spazzino sono soldi che vanno via ciocca che voleva parlare no vabbè intanto auspico che il progetto di secessione del sud possa trovare attuazione visto gli interventi che ho appena sentito quindi mi sembra di capire che il sud mantiene il nord e il sud inizia a dire che vuole fare la secessione dal nord io da nordista dico non si permetta di dire cose assolutamente favorevoli lei la deve smettere di dire cose fantasieose voglio dire il progetto secessionista lei dica quello che pensa e non quello che penso io ho capito che voi proponete il progetto secessionista del sud no hai capito male come al solito capisci male non capisci visto che dite che il nord che il nord vive sulle spalle del sud mi sembra di capire siccome è una fesseria ovviamente non è la realtà vai a studiare è chiaro che penso che porterebbe avanti il progetto di secessione del sud ma fatemi dire una cosa importante come al solito non capisci nulla no però vi prego facciamo finire no prego l'Europa per poter avere uno spazio di manovra maggiore e quindi togliere il tema dell'unanimità nella votazione si deve avere un'affidabilità io ho una bimba di 5 mesi nelle mani di questa Europa a trazione franco tedesca non la metterei mai questo è il vero tema e non so quanti genitori che ci stanno guardando metterebbero nelle braccia di questa Europa franco tedesca i propri figli e quindi o cambia l'Europa e diventa affidabile allora noi siamo disposti a mettere nelle braccia dell'Europa i nostri figli o perdonatemi è chiaro che il progetto europeo piano piano si sgretolerà perché non è affidabile perché non è credibile perché in questo momento distrugge quello che è il futuro del nostro paese per avvantaggiare altri paesi le parole finale di Ciocca ci dicono una cosa al di là di come ognuno ne la pensi che l'Europa sta attraversando una fase veramente di grande delicatezza vedremo l'equilibrio dopo il voto vedremo le grandi questioni che dovrà affrontare però probabilmente nei prossimi anni questo sarà uno dei temi cioè la sopravvivenza dell'Europa così come la conosciamo considerando poi tutto quello che in questi anni è successo io ringrazio Enrico Giuseppe ringrazio Pier Nicola Piedicini grazie a Angelo Ciocca grazie a Pina Picerno grazie a Francesco Giubilei grazie a riferirci grazie ovviamente a tutti i candidati un grande in bocca al lupo domenica no domani vive il lupo vive il lupo pancani grazie noi ci fermiamo ci vediamo lunedì come sempre stesso luogo stessa ora grazie